La carriera incontaminata. Io c'ero fin dall'inizio e ho scritto questa canzone che è stata la prima canzone del Gamba del Legne. Siccome il Gamba del Legne era il tramvai che portava a lavorare il pentolano di Milano, e a Giappeo invece, al treno, ma lì è sempre in ritardo, hanno decidito a fare la canzone che è dedicata a tutti i pentolari qui presenti. Tanto mano è mai più mese che va a lavorare, mano a dormo, mano a dormo, mano a dormo, vai, va così. La carriera incontaminata. Don Massimo, messi su noi l'armonica in me, dai! Dai un applauso a Don Massimo, dove è carico? So che c'è il Vangelo sulla destra e l'armonica sulla sinistra. Un applauso a Don Felice Massimo, vai via, assoluti a Don Massimo. Allora! ate Ehi, ehi, i gai, va che mi la dici, a prendi lì c'è la mattina, non ti posso le ferie, che cosa è malaurgata, a Milano. Tomano la lunedì, ma credo mo' domenica, ma sono le mie detti, su fine la ruta, sta finisca che tu ma, ma sono un peggio a Milano sulle mani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.